Sì, anche tra pochissimo, perché abbiamo una diretta, però ci devo ad essere qui e con grande un'amore e ricevo il vostro premio e il vostro invito, come in tutto, ad essere qui in rappresentanza di questa occasione così importante, di questa parte della risoluzione, io che ho fatto solo l'interno, spero di aver avuto un po' di metà, grazie, e come dice Santorio, che ho fatto i buchi, mettendoci la pace a questo punto, mettendoci il cuore, e fanno il premio. Il premio è il presidente del Giorno, il grande festa della televisione italiana, i 70 anni del piccolo grande schermo, abbiamo festeggiato qui in Campidoglio, veramente con i più grandi, Claudio Lippi, Marino Bartoletti, Rosanna Rambettucci e tanti altri. È stato un grande appuntamento, perché si è parlato di televisione di ieri, ma anche quella del domani, perché comunque ci aspettano veramente tante trasmissioni importanti, come il festival di Sanremo, che è alle porte. Quindi ringrazio, terza pagina, una media azienda che è sempre presente ai miei eventi, il super direttore, come lo chiamo io, Alessandro Scaronecchia. È appuntamento, prendete nota, il 4 luglio, microfono d'oro dove passeggeremo.